Noi di Conad, oltre al prezzo, vi garantiamo sempre la qualità che non teme confronti per la tua spesa. Dai prodotti freschi a quelli per la cura della casa e della persona. Nella nostra linea bagno Conad Essenzie, la delicatezza è di famiglia. Ogni giorno vi offriamo centinaia di prodotti indispensabili a prezzi bassi e fissi. Come il nostro bagno docce rilassante Conad Essenzie con estratti naturali. La migliore qualità a 1,70 euro. Bassi e fissi. Qualità e convenienza che non temono confronti. Assessore, siamo al Casino di Sanremo, da poco terminata la conferenza stampa, in vista dell'esordio. Tra l'altro di fianco a lei c'è anche la Coppa del Giro d'Italia, qua turismo, sport, spettacolo, c'è un po' tutto insieme. Direi che la RAI ha cognato lo slogan giusto per noi. Se voi guardate i manifesti del festival c'è scritto Sanremo è molto di più. Quindi possiamo prendere spunto da questo, partire dal festival della canzone come il primo grosso spot, la prima grossa promozione turistica del nostro territorio e fare in modo di portarla avanti per tutto l'anno con manifestazioni importanti come la Milano-Sanremo, il Giro d'Italia, il rally e quant'altro che poi si affaceranno nel panorama sportivo Sanremese. Noi abbiamo parlato di festival per mesi, per settimane adesso mancano poche ore e si parte. Sono quasi contento che manchino poche ore perché è stato un lavoro, sinceramente è stato un lavoro duro, riuscire a far collimare tutte le esigenze della sicurezza, le esigenze della produzione, le esigenze della città per fare in modo di avere un prodotto che possa essere importante come è giusto che sia. Direi che visto il successo ieri sera del green carpet, svolto in maniera tale che rispettare misure di sicurezza, tranquillità e quant'altro può essere un buon viatico per tutto il resto della manifestazione e vedere come si svolgerà nella settimana. Ecco, non c'è il palco in Piazza Colombo, c'è però una nave davanti a Sanremo. Comunque Sanremo è qualcosa di speciale che esca dall'Arisso e non lo porta sempre. Penso che la nave l'altro ieri sia stata la situazione più fotografata d'Europa, perché non c'era social e non c'era nessun quotidiano che non parlasse di questa nave. Per noi è stato un ritorno di immagine veramente molto, molto importante. Speriamo di portare avanti anche un discorso costruttivo con Costa per fare in modo che questo sia semplicemente l'embrione di quello che potrebbe essere veramente il ritorno pubblicitario di immagine per Sanremo.